Il ruolo dei Vivai nei cambiamenti climatici è fondamentale da sempre. Nell'ultimo periodo c'è una consapevolezza ormai diffusa, importante, che ci fa anche enormemente piacere di quanto questo sia fondamentale per appunto il benessere delle persone. Se c'è una cosa che il Covid ha fatto riscoprire positiva, l'unica penso, una delle poche, è proprio questa consapevolezza del verde che è fondamentale per le persone, sia anche per le amministrazioni che si stanno, ovviamente hanno capito, ma si stanno sempre impegnando di più a far sì che questa cosa sia sempre più di impatto fondamentale. Nell'agenda del G20 rientrano gli alberi. Entro il 2030 ne verranno piantati, secondo l'agenda, secondo il programma, mille miliardi. Quanto sono importanti gli alberi per la società? Il numero dei mille miliardi è un numero che fa, magari mette paura, perché sono numeri strabilianti. Si tratta magari di piante piccole, forestali, che servono appunto per la riforestazione di situazioni che sono andate degenerando dagli incendi e da quant'altro. L'albero è fondamentale, fondamentale appunto per il benessere delle persone, perché ha mille benefici. Assorbe l'anidride carbonica in quantità importante e la mitigazione del clima all'ombra, si vive meglio. Senz'altro le barriere assorbano le polveri sottili. Sono tanti i benefici che un albero può dare. E questa cosa finalmente viene capita, viene valutata positivamente. Noi qui a Pistoia, all'ioesimo pistoiese, leader, non può che avere benefici da queste iniziative e anche da questi risultati che sono venuti fuori dal G20.